Musica In quanto ascolteremo anche le voci dei ragazzi provenienti dalla scuola Overtour di Fontana Rosa che ringraziamo e in particolare ringraziamo la maestra di canto Barbara Vesce che ha preparato i bambini Sì, concetto è una manifestazione fortemente voluta dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione Scusate un attimo, mi sembrava un applauso questo? No Sembrava un applauso? No Allora Alessandra ci vuoi dire qualcosa? Buonasera a tutti, ci vogliamo scusare in anticipo se nel corso della serata commetteremo qualche errore Voglio calore sulla mia pelle Voglio la luna Voglio anche le sue Voglio anche le sue Grazie a tutti, ci vogliamo scusare in anticipo se nel corso della serata commetteremo qualche errore Grazie a tutti, ci voglio anche le sue Adesso è tutto così semplice Con te che sei l'unico complice di questa storia magica Non si ci dà un elemento in precedente Un elemento in precedente Di una relazione stabile Che punti all'eternità Mi butti giù 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 Come fossi una bambola Non ti accorgi quando piavo, quando sono triste e stancato Tu pensi solo per te E non ho letto, tranquillo e stai lontano da un piede spalle Intanto per i passi di io continuo a chiedermi perché l'unico e poi tu non mi senti a dirmi Se a volte parmi c'è chi tra la gente E se soltanto a pioggia sono lacrime, arrugole, le mani mochia, chiusa e distante Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre Tra respiro e battito Sei nell'anima E da quello che ti vede male Tu ci dà male che viviamo sulla terra E da quello che ti vede male E da quello che ti vede male E da quello che ti vede male